...della settimana, Gianni Cupero, e la segretaria di voto, riforme sulla proposta a Pini, per il fatto di due anni insieme. Si lavora, è una settimana decisiva per il Paese, quindi è giusto che si lavori tutti insieme per trovare soluzioni giuste. Tutto qua. Una agenda vinta, quella della prossima settimana, il segretario dell'HP Gruppo, il presidente delle commissioni parlamentari, poi la segretaria con i senatori democratici, la segretaria, la direzione di giovedì, con il giobato che ha finito sul tavolo, e infine la segretaria con i deputati. Si lavora la dossier legge elettorale, punto fermo la data del 27 gennaio.